Il più bello dei vasi laconici, come è stato definito dagli studiosi, questa coppa, questa chilix, attribuita al pittore della coppa dei pesci, che raffigura appunto un habitat naturale ancora presente a Taranto, se vogliamo, e quindi tonni, delfini e triglie, che sono ancora oggi presenti nel golfo di Taranto. In questa coppa molto importante siamo nel VI secolo a.C., fra il 580 e il 570 a.C., questi vasi laconici erano prodotti appunto nella laconia regione di Sparta e venivano importati appunto nel VI secolo a.C. a Taranto, che testimonia il legame importantissimo fra Taranto e la sua madrepatria a Sparta.